L'emergenza migranti divide la provincia. L'ennesimo appello del prefetto Mariano Savastano ai sindaci bellunesi per la ricerca di alloggi per i profughi che continuano ad arrivare è caduto di nuovo nel vuoto. La situazione ormai cristallizzata, con i primi cittadini divisi a metà, tra chi ha dato la sua disponibilità all'accoglienza ma che non ha più alloggi disponibili e chi invece conferma la sua impossibilità ad occuparsi della questione. Lo stallo, con i centri di accoglienza straordinari ormai al completo, ha il risultato di far salire la tensione tra gli amministratori. Nell'ultima riunione, alla quale ha partecipato solo un terzo dei 61 sindaci bellunesi, il prefetto ha ribadito l'auspicio che ogni comune possa accogliere uno o due profughi, distribuendo così il carico in tutti i territori. Ma chi finora ha fatto la sua parte e non ha più alloggi disponibili fatica a nascondere l'insofferenza verso gli omologhi che ne se ne stanno tirando fuori. Da parte loro, i sindaci che non si sono finora resi disponibili all'accoglienza confermano la loro posizione, sintetizzata dalle parole di Andrea De Bernardin, primo cittadino di Rocca Pietro e segretario provinciale della Lega. In democrazia, le parole di De Bernardin, un sindaco può decidere cosa è meglio per la sua comunità e sul tema dell'accoglienza ai migranti i primi cittadini devono poter decidere. I sindaci di area centro-sinistra chiamano in causa direttamente il loro collega e senatore, Luca De Carlo, in veste di unico rappresentante bellunese a Roma, accusato di non essere mai stato presente alle riunioni. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia per ora non risponde alle accuse. Intanto, dal direttivo di Federalberghi Belluno arriva una proposta in vista della prossima stagione invernale e delle inevitabili difficoltà a reperire personale per strutture ricettive. Selezionare tra i richiedenti asilo in arrivo quelli disponibili a sottoporsi ad un programma di formazione nel settore della ricettività.